Minecraft ma il mondo è un villaggio enorme Andiamo subito a creare il mondo chiamandolo con un nome semplicissimo ovvero dov'è il fabbro Perché alla fine è quello che dovremmo trovare in questo mondo essendo che è tutto un villaggio E ora andiamo subito a crearlo E ora che siamo nel mondo dobbiamo semplicemente trovare un diamante Penso che sia una delle cose più facili essendo che questa sarà la sfida più facile che abbia mai fatto Essendo che l'unica cosa che dovremmo trovare sarà un semplice fabbro Sperando che abbia un diamante va bene Se no al massimo si va a cercare un altro fabbro Poi è anche una delle sfide più facili perché il cibo non è neanche difficile da procurarselo Essendo che basta trovare del grano Prendere un po' di legna e creare una bellissima crafting E a sto punto semplicemente inserirci del semplice blocco di grano Trasformarlo tramite pozioni magiche in grano in sé E poi trasformarlo in pane e abbiamo il cibo Beh diciamo che non è tanto facile trovare Aspetta ma quello è un fabbro Stavo per dire che era troppo grande il villaggio per trovarlo Ma in realtà era facile Vabbè ora devo solo sperare che ci sia il diamante dai Neanche ho faticato così tanto Perfetto Sì Sì da facilissimo Stavolta è stata fin troppo facile dai